Siamo stati per voi nel freddo polare di Toronto in Canada in occasione dell'All-Star Weekend, l'appuntamento annuale con il meglio della palacanestro mondiale. Un insieme di sfide appassionanti, eventi, performance che culmina con l'All-Star Game, la partita delle stelle, che vede i migliori giocatori delle squadre NBA dell'Est affrontare i più grandi campioni delle squadre dell'Ovest, in una gara che da sempre punta più sullo spettacolo che sugli schemi di gioco. Un All-Star Weekend da ricordare anche perché è stato l'ultimo di Kobe Bryant, la leggenda vivente del basket che imparò a giocare in Italia. Il rapper canadese Drake ha fatto gli onori di casa e la presentazione dei giocatori. Cosa vuol dire essere selezionati per il team All-Star? Abbiamo sentito i campioni del basket a stelle e strisce, che hanno anche mostrato il loro lato umano ed il loro interesse per opere di beneficenza. Quindi, cosa sta succedendo qui? Potete descrivere ciò che hai stato fatto? Oggi è quello che chiamiamo l'NBA Day of Service, dove siamo insieme con i nostri partner NBA, con Kaiser, Evergreen, tutte le organizzazioni, e la Banca di Banca di Canada e l'NBA Care, per dimostrare la nostra responsabilità social, soprattutto con le persone in need. Ci sono molti e molti persone, soprattutto i nostri figli, che sono andati a casa con il nostro cuore. Quindi, per proporzionare alcune cose per loro, almeno facciano il loro amore molto meglio. E sono contento che i nostri giocatori mostrano il compromesso di venire oggi e di mostrare le service. Cosa significa per te, poter mettere un sbio su un figlio di bambino o aiutare le persone? Per me è il nostro DNA. Vogliamo fare una differenza nella nostra comunità. Vogliamo fare una differenza in qualsiasi gioco, e il gioco è diventato un esempio. La importanza della bambina all'overse del mondo, è crescita, è diventata una grande cosa in Italia, in Europa, in Asia? Il gioco è crescita molto veloce. Come l'NBA Global Ambassadore, parlando con te oggi, posso dirvi che non c'è un posto in qualsiasi gioco dove non vedo l'impacto del gioco per la società. E sono molto felice di quello che abbiamo potuto avvicinare. Un messaggio agli fan italiani. Buongiorno, i miei amici sono in Italia. 20 anni in NBA e hai deciso di dire addio al basket. Quando dentro di te hai sentito che era giunto il momento? Tre giorni prima che ho fatto tutti a sapere. Era veloce. Ho detto che questo era il momento, questo era l'ultimo campionato. Sono pronto. Il Black Mamba resterà parte di te o lo manderà in pensione? No, è sempre parte di me. Però penso che adesso è importante passare questa motivazione a tutti gli altri giocatori che vengono dopo. Gli italiani in NBA, chi è secondo te il più forte? Ce la farà la nazionale italiana a qualificarsi per le Olimpiadi? Spero di sì. Bello e Gallo sono giocatori che sono molto forti, però penso che in Italia hanno dei giocatori giovani che tengono a crescere e diventare giocatori che sono dei migliori giocatori in tutto il mondo. Sai che il mio cuore sarà sempre in Italia, allora non posso aspettare il giorno che posso ritornare e aiutare questi giocatori. Qual è la città italiana che ti è rimasta di più nel cuore? Cosa devi al fatto di essere cresciuto in Italia? Reggio Emilia era l'ultima città, ancora amici lì. Ora penso che magari Reggio Emilia sarà sempre la città che è rimasta in cuore di più. James, Family Foundation, qual è il tuo obiettivo e come ti fa sentire di essere potente aiutare i più forti? Il nostro obiettivo è continuare a imparare le famiglie, a imparare i figli. La mia fondazione ha fatto un grande lavoro di essere in mano a questo All-Star Weekend. Abbiamo già avuto una grande fondazione a tutti i giorni. La mia fondazione e la mia squadra hanno scelto di prendere tantissime cose. È sempre bello di poter mettere un amico in fronte di amici e all'interno del mondo. Ci hanno fatto un grande lavoro. Il più difficile di essere King James? Chi è la persona che ti ha inspirato e aiutato la più? Per me, non è King James o quale è il caso. La mia fondazione è stata abbastanza. La mia fondazione è stata abbastanza. e cose di questo tipo, è l'unica cosa che importa. La hard work, talento, cosa ci serve per essere un NBA star? Discipline, quando si diventa disciplina con l'approccio della giusta di basket, ci si prende un'altra parte. Qual è il sentimento di essere in Toronto a la All-Star? È un grande sentimento, un'esperienza, è un'esperienza anche. Qual è il più difficile di essere un NBA player? Il sacrificio che devi fare, di essere fuori dalla tua famiglia, è probabilmente la parte più difficile. Qual è la tua inspirazione? E come ti fa sentire di essere un modello per tantissime persone? La mia inspirazione, probabilmente non lo conosceva, era solo un ragazzo che viveva nella strada per me. Io sempre guardavo a lui, e pensavo che era il migliore personale. Per me, per me, per me, per me, non ho bisogno di essere un progetto, e per me, ero della stanza che ho fatto, per me, per me, per me, per me, per me, per me. e rendere le persone parte di quello che ho avuto. È una piaccia. È un sentimento incredibile. Sto cercando di divertirlo e vivere il momento. Molto è venuto a me, ma è qualcosa che ho sempre dimenticato. Qual è il tuo modello in crescita? Qual è la persona che hai bisogno di ringraziare il più? Allen Iverson. Ha cambiato il modo il gioco, ha cambiato la cultura del gioco. E' probabilmente il più grande influente di molti giocatori. Qual è il tuo principale qualità e il flow? Il mio principale qualità? Non ho un mentale killer. Non so farlo da nessuno. E voglio essere uno dei migliori giocatori che ho avuto. Puoi dire ciao a l'Italia? Ciao a l'Italia. Questo è Isaiah Thomas con la Boston Celtics.